...ma posso pagare tanto il buono, questo parlo calabrese, questo ne capisciamo. Prima di tutto, signore e signore, voglio ringraziare a Dio che è neanche di voi. Secondariamente voglio ringraziare il comandato di San Giorgio, che mi hanno dato un'altra volta l'onore di cantare il comandato di San Giorgio. Per me è sempre un grande piacere cantare questo San Giorgio, vi ringrazio. Oggi veramente mi toccava di cantare la canzone proprio di San Giorgio, da San Giorgio, non solo quando si ricorda la chiesa, però quando si ricorda pure qua, da chi sta o è nata sua. Però non è per abbastanza tempo per me mettere la musica insieme e mi imparare tutti i valori, perché i valori sono tanto lunghi. E così oggi, signore e signori, comunque vi canterò per voi una bellissima canzone calabrese che ho fatto un cassetto all'anno scorso, la canzone che si avvicina l'onore della Madonna. Così oggi per voi, perché non è la canzone del San Giorgio, vi canterò la canzone della Madonna e dopo se volete fettare un cassetto è solo 5 dollari e vengono e se vi piacciono i valori. Grazie. Ciao. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.